Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale! Oggi un make up tutorial per un look unexpected. Step 1. Inizio andando ad applicare nella piega, verso l'angolo esterno, questo ombrettino rosa. Step 2. Con l'ombretto viola vado a definire una linea nella mia piega per disegnare una cut crease. Procedete per gradi, quindi iniziate disegnando una linea leggera, portandola verso l'esterno e poi andate a definirla. Step 3. Sfumo la linea verso l'alto con l'ombretto rosa e successivamente la intensifico sempre con l'ombretto viola. Applico una matita nera nella rimacigliare superiore e inferiore. Sfumo nella rimacigliare inferiore l'ombretto rosa e successivamente l'ombretto blu. Step 4. Vado ad applicare una linea generosa di eyeliner. Step 5. Mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Step 6. Intensifico con l'ombretto grigio l'angolo esterno del mio occhio. Step 6. Applico adesso il rossetto matte, lunga tenuta 0-1. Step 6. E questo è l'effetto finale con le ciglia finge. Step 6. Intensifico con l'ombretto grigio l'angolo esterno del mio occhio. Step 6. Intensifico con l'ombretto grigio l'angolo esterno del mio occhio. Step 7. Intensifico con l'ombretto grigio l'angolo